Non si è presentata l'audizione sul tema aeroporti in regione, è il Riminum, la società che gestisce l'aeroporto Fellini di Rimini. E subito sono piovute le polemiche da parte del Movimento 5 Stelle, da tempo critico nei confronti della nuova gestione dello scalo. Ha creato un precedente perché nessuno finora si era mai rifiutato di venire in audizione in commissione. Fino a prova contrario l'Assemblea Legislativa è ancora l'organo democratico della regione Emilia-Romagna e quindi ci sembra doveroso che anche Air Riminum venga a relazionarsi sulla gestione di uno scalo importante come quello di Rimini. Air Riminum ha appena festeggiato l'aumento dei passeggeri su Rimini, 213 mila, nei primi otto mesi dell'anno, il 23% in più rispetto al 2016, ma i numeri per sensoli sono insoddisfacenti. L'accordo fatto con Enac prevedeva per il 2017 850 mila passeggeri, dai dati che ci sono stati forniti ne sono atterrati 236 mila, quindi siamo ben al di sotto di quelle che erano le promesse fatte da Air Riminum. Ancora non si è il masterplan, la data del 15 settembre prevista per l'incontro con la Giunta è stata ulteriormente rimandata, quindi ancora non abbiamo assolutamente certezze.